Non sarai i bambini che forse sono anche più svegli, ma io ho lavorato questo mese e ho avuto la cosa di lavorare accanto al mio ex fidanzato dentro una scuola e quindi di vivere i ragazzi con le insegnanti. Devo dire che queste insegnanti sono completamente senza carattere, non riescono a dare un'educazione, una rigidità agli studenti che comunque prima non succedeva, c'era una grande rigidità e non c'era proprio l'occasione di poter rispondere o fare qualsiasi cosa. Certo, comunque io penso che mi sembra che mi debba lasciare. Si, si, adesso ci saluta. Si vanno davanti i bacini, mua! Una sera si esibisce, farà un... Eh vogliamo dire dove si esibisce? No, io in piazza Aldomoro, zona noventana Fonte Nuova, io sono lì, sono ospite, chi mi sta ascoltando e chi si trova da quelle parti è il benvenuto e mi farebbe piacere. Grazie a Radio Roma, grazie a voi, grazie per Francesco Alpanella per il corso, grazie Antonello, grazie alla regia, vi saluto. Grazie soprattutto a te da noi e comunque per salutare Emi Bergamo ci ascoltiamo un altro brano che appunto opera da appunto di Claudio Simonetti, naturalmente colonna sonora dell'omonimo film di Dario Argento. Oggi abbiamo parlato la musica di Dario Argento con film di Campanella. Bene, salutiamo Emi Bergamo, lì la regia. Ciao, grazie.